musica 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 ero andato a casa e ho detto secondo me ti amo e ho trovato la lavatrice stasera e allora io credo che tutti lì si niente di solito mi avevo messo una volta e da 5 minuti avevo cavato perchè ero già morire dal caldo si mi hai fatto da morire mi ha portato adesso ho detto vabbè avevo parato una volta a casa a verniziare e ho detto madonna metto la tuta a verniziare io caro avevo anche la tuta per sotto vabbè è pazzo in bromba in bromba mai più costi buttar via 2 euro e tutto il lavoro vaffanculo fai il mio lavoro si mette insieme a me ma anche voi che fa manutenzione se pressi non so che cosa se prendi il cagotto fai una parte della tuta ebraica e ora te te cavi qui e te pari sotto ti ridi infatti io sono mai ricorda quando ho usato tuta qua perchè sennò ti mori veramente io arrivo al lavoro però qui ho metto sulla tuta qualche minuto vabbè bisogna lavare con l'idro dentro una macchina altrimenti vanno venire fuori un po' d'acqua si si mi uso per bernicare se no mi sguisco comunque magari non la sento va bene fare programmatore grazie bravo avevo già letto fare programmatore magari la locomotiva va pure le quattro ruote fa tanta gomma va tu che Sergio che ti vuoi mandare Marco si ma prima viene da questo mare che ho perso 10 di metà posto quello si ma questo qua è uno che si è gaffato eheh fa 250 euro tu butti il ferro vecchio ti guadagni guarda che sbrodi che ha fatto ma dove siamo riuscire ad andare ahahah guarda che petoni faccio oggi ma fai fin da vedelo aspetta che che giro è guarda link su TS no che roba link vabbè dai andiamo a registrare guarda link su TS madonna domanda quando la diesta è maddi dove andare fuori ai diese e mezza che problema c'è ti disdici il dentista ti sia a posto si così dopo mi devo pagare 50 euro del mora si perchè? perchè ti hai disdito l'appuntamento dopo le diciamo le 48 ore ti ho sposto la settimana prossima eeeh cos'è passà come ha anche 48 ore ti facciamo e ti dici che non ti vuoi altro però ti puoi spostarlo perchè ormai comunque se ti vuoi analga GPS a trincia e ti prende il prodotto che appassiua e ci vuoi che ti partirei a rallo e turbotrinciature e che si riempie in 3 secondi da cadere ming vedete che c'è il ming che fa dio santo ho limite a 41 o mi? eh mi è santo eeeeh quando mi sta molto qua nel server vada a dio hai messo tutti sbagli dio hai scoperto che roba Non dà ne più! Quanto butti? Eh, sei il muingo il fa adesso! Quanto di quello che trinciato è effettivamente stato prodotto? No, no, c'ho potuto! Orcopeta dove sono di andare? Fermi, fermi, fermi! Eh, dai, una botta a metà! No, no! Stiamo via regolari! Eh, Bioria, eh, Bioria Vedr! Andando via lentamente, quanti litri che c'è? Una passata! Andando via velocemente se li rispetta! No, li rispetta perchè qua i numeri vanno io con me, capite? Oh, oh, frena, 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 frena! PULT Eh, 4... 4... 4,9, c***o era! 49 giù qui! 19, 19... 4,9, c***o! Avete sbrichi da ridere quando ti parli francesi? Sì... Perché non mi ricordo più un caso dei francesi? Quello se... Pensava se è bene francesi... Per cosa si fa male? Gira, attacca la freccia! Eh, gira! Io posso girare dopo il ponte! Guarda che... Ecco! Ehi, Google! E vai... Addio l'uomo! Traduttore! Non sai che può! Eh, non posso più tirarlo su? Traducci... Del... Precise... 48! No! In passo! Non mi ha segnato la pizza a pallo, però! C'ho allenato a mollut, credo! Aspetta che te lo ripristi, no? Non mi ha segnato la pizza a pallo! Adesso, adesso può! Eh... Ah... Car... Che cazzo... Quattro e due sarà, Dio! Caron tweet! No! Ah, ancora è sì! Quattro... 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 Dio, che lag! Ehi! Ah, mi riesco a fare! Quattro! Quattro! Cazzo! E fin qua! Non si scappa! Impariamo in francese, quindi il tema è FBARCO 95! Ah, devo andare via il... Ma che cazzo... Ma non sei WIT! Quattro... Le scargò tu? Quattro... Quattro... Quattro WIT! 168 euro del... Quattro WIT! Quattro WIT! Ehi! 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 In inglese! Ehi! 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 Perfetto! Ehi! Divorare le lingue straniere con le bestemmie! Oh, Chris! Che vaga best qua! Come trad... Ehi! Il mio troppo! Ma donne più tempo ha fallito! Ehi! non credo madonna piscia in pied no madonna piscia in pied madonna piscia in pied madonna piscia in pied podoa ama Rita Lollobrigida ah podoa ama Rita Lollobrigida podoa podoa ah la sua falta pete 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 podoa 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 questa è la miglia francese avvi dai tre Posso scrivere PODOA, HA, PODOA, HA Ma, ma, aspetta, così? PODOA O così? O così, aspetta PODOA Se te fai come PODOA, HA, è da copio Come un orgasmo HA PODOA 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 È una cosa in l'uso francese PODOA 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 c'è un'accento che non serve wow 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 dai 3 cosa? eh ho capito ma non so di usare proprio attento metti prenditore ma ti cosa fai tu ma ti cosa fai tu ma si scrive wow wow dai prenditore io ma come si scrive traduiti? no ma te proprietàre d'entreprise cosa? ha piuttaro terriero proprietàre d'entreprise proprietàre d'entreprise proprietàre d'entreprise proprietàre d'entreprise proprietàre d'intraprendenza si è una nave spaziale la persona che esigenza professionalmente un'attività economica organizzata ai fini della produzione dello scambio di beni o di servizi qui qui il che è il risultato il risultato il risultato di che ho studiato ho messo il c***o con dei scambi ho messo il c***o con domani domani? domani, sì anche a me o domani? Piri è un cognome vero, Kellner? ti ho detto che c***o è un nome che vuoi dire cammariare in tedesco treno, treno! ah, ragazzo, ti passi sempre a più ah, ragazzo, mammaa tu santo non è che franzista è un c***o, è un c***o è nata di c***o io mi c***o a piantare su qualche parte è quello che ha fatto apposta Agri su massa franciscana sì, perché aveva visto la birra ma quanto c***o? 70, 8 che perde una stricca 8 che mi perde 80 85 90 95 io ormai ti ho detto a tirare dritto ho l'acqua l'altra volta no 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 ci mancava ancora un bel poco eh come ho visto dovevi fare una recensione? eh 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 non ti metti che tanto andare a bagno coi trattori aspetta che sono quello di fine che voglio sì quanta che in voglio ti serve 100 metri cubi marco mico ho fatto un cfp eh ecco sta a bocciare ecco non sai non so quante cose c'entra un metri cubi un camion tra iasi cos'è 300 metri cubi mi porta via a 10 al giorno a 10 al giorno un cfp dai ora mi porta via mi serve terra madonna vieni a casa mia ti ho detto non sai che ti viene col furgon tra benate un cfp che sia quel furgon che ti porti e ti apporta anche eh forse perché hai sentito che ti apporta per niente ero ahah 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 ascoltami qua questo è uno che ti ha dato anche per niente perché è il posto di portarla in discarica da via così però adesso ho urso sul campo quindi anche se mi apporta non so dove metti te la metti in casa come ho fatto via ahah si è mi pare mi pare si è andato sotto il gioco si è andato a tra l'ambiente al giardino a fare una brucia e seminare poca erba che erba ha seminato? erba a campo ah non so erba che buona trafoglio 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 poca sorghetta oh oh lingua e vacca eh di dio oh ti puoi seminare scusa non so 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 non è diventata come a casa la sorghetta ma è serampica? ma è il massimo che metti su un panda eh ti porti qua un panda ma il panda non mangia la sorghetta no il bambù ha saluto ma il bambù perché se mangassi la sorghetta sento i panda non so che io sono messi i campi pieno buon allevamento ah io voglio una quantità mostruosa perché il panda mangia fa ursi ma si è un cavallo è un cavallo è un cavallo è un cavallo si è un cavallo che mangia il sorghetto il cavallo mangia il primo taglio no cosa è che mangia? il cavallo forse il cavallo mangia anche il bambù il cavallo mangia tutto mangia anche la soccata e mangia ragazzi quindi si è campi d'erba e vai a mangiare sulle piante ahahah e ti vengono bianca la corticcia la piante eh nico se devi mandarle un amico tutte le rive e mi passano tutte le rive e mi passano tutte le rive dai russi ma guarda che c'è chi che mua anche in mezzo il vigneto e mangia le foglie e beh è fuori le testa muagli in mezzo il vigneto non so vuol dire barra cavra se mua in mezzo il vigneto si è 3 no 3 io so ma i francesi non mi ricordo più è soltanto anche i francesi e con questo abbiamo concluso grazie dell'attenzione e arrivederci bella raga bella